Una lettera da indirizzare alla Commissione europea per ottenere una interpretazione autentica del De Minimis e in parallelo la proroga della scadenza dei termini per la restituzione delle tasse sospese alle imprese del cratere sismico dopo il terremoto del 2009. Circa 100 milioni di euro che centinaia di imprese dovrebbero far uscire dalle loro casse e da restituire al governo italiano perché ritenuti dall'Europa un aiuto di Stato. Sono le due strade che la politica e le organizzazioni sindacali e di categoria stanno cercando di percorrere per salvare le imprese del cratere da un salasso che potrebbe condurre molte di loro al fallimento. Questione al centro di un consiglio comunale straordinario che questa mattina ha riaperto il dibattito dopo mesi di silenzio. Quel che viene chiesto è che la Commissione europea riapra il confronto e dia al governo italiano la possibilità di elaborare un emendamento che in sostanza permetta alla commissaria incaricata di procedere con il recupero delle somme, Margherita Maria Calabrò, di giudicare le imprese con un limite di De Minimis più alto da 200 a 500 mila euro. Una speranza che cova sotto l'albero, una risposta dall'Europa potrebbe infatti arrivare già prima della fine dell'anno. Nell'interlocuzione delle ultime settimane che ho avuto personalmente con i tecnici del Ministero siamo riusciti ad avere la promessa adesso di avere una lettera che con i nostri avvocati è stata concordata, se vogliamo, per la comunità europea. Finalmente se avremo questa benetta proroga potremo avere la possibilità di rialzare l'articella sul De Minimis. Le imprese devono prepararsi comunque a mettere a punto tutta la documentazione necessaria in vista di un'effettiva restituzione delle tasse. Con questa procedura ovviamente adesso spieghiamo una nuova proroga, anche se il mio invito purtroppo è quello di intanto le aziende prepararsi alla documentazione per poter permettere poi ai professionisti di poter peritare questi danni. Il sottosegretario alla ricostruzione Vito Crimi presenterà in Senato nei prossimi giorni nel corso dell'approvazione della legge di stabilità un emendamento complessivo che riguarderà diversi aspetti legati al sisma del 2009, tra cui quello del rinvio di un ulteriore anno della scadenza della restituzione del residuo 40% delle tasse sospese dieci anni fa alle imprese del cratere. È una delle strade che si sta percorrendo, tecnicamente già sono state fatte delle verifiche, secondo i funzionari del governo italiano questa cosa è possibile, bisogna far comprendere all'Europa che qui non c'è stato nessun aiuto di Stato e che soprattutto a distanza di nove anni non si possono richiedere somme a degli imprenditori che tra l'altro non hanno neanche più riportato in bilancio. Per questo la necessità di prendere un altro anno di tempo e in questo anno di tempo aprire un confronto anche duro se dovesse essere necessario con l'Europa, sperando di interloquire dopo maggio con una dirigenza politica europea diversa da quella che c'è stata fino ad oggi.